La prima considerazione è che queste due squadre sono nate per fare due campionati con finalità o obiettivi direttamente diversi, quindi secondo me è giusto sottolinearlo questo perché il divario che si è verificato sul campo è molto figlio di questo, c'è da una parte una squadra che deve provare a giocare per competere con le squadre più importanti di questo campionato e dall'altro la squadra che deve salvare la pelle e mettere il mostro in fronte dell'esperienza di tanti giocatori giovani molto interessante, quindi questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che è un buon modo ben iniziare, nel senso che abbiamo giocato una partita seria, quando queste partite prima scontrirono sempre delle trappole, delle difficoltà, abbiamo giocato una partita stabile senza fare grandi illusionismi, abbiamo giocato con grande equilibrio, con grande solidità, soprattutto difensivamente siamo stati solidi e stabili per tutti i 40 minuti, in attacco per una prima parte della quale c'eravamo in usi di poter fare canestro ogni tiro, abbiamo invece trovato più equilibrio quando abbiamo desistito veramente la palla vicino a canestro, è indubbio che la prestazione di dare il cuore è stata semplificata. De Nicolà o illuminante in regia? è stato bravo, è stato bravo anche a fare una partita dove non ha guardato un suo fapeppino, ma la cosa bella di questi un po' di ragazzi è che nessuno ha fatto, onestamente non ho mai visto un atteggiamento di fra virgolette egoismo, nessuno ha pensato ad agitire le nuove statistiche, ma è un caso che tutti quanti si sono messi a disposizione del nostro centro, non è capitato, ogni pallone, ogni qualvolta una buona possibilità e nessuno degli altri è andato a portare le nuove punti realizzate, però André è sempre lavorato nel controllo del ritmo, è quello di distribuire i palloni, sono un giocatore che quando Tremendio finisce con sette assist, così come la diceva già lunga su quello che ha fatto il stasizio. Cosa è successo invece, per così dire, a Dome? 9 punti nei primi 7 minuti poi è sparito? Abbiamo un interesse, è una partita dove abbiamo campestato delle mattonelle diverse, l'avete visto tutti, ma è anche solo fin da dovevi dire che mattonelle è una partita della campestà, è una distribuzione di tiri molto più vibrata, uno del produratore che ha avuto tante responsabilità è stato Dary, perché Dary oggettivamente aveva un vantaggio che non siamo stati bravi a concretizzare, o direttamente con lui, ma anche con il gioco senza palla, perché al di là dei punti che abbiamo prodotto, ma ci dobbiamo dimenticare i tagli, i riguazi d'attacco, e se avessimo messo dentro tre o quattro dei fili da un centimetro che abbiano sbagliato, probabilmente anche qualcun altro sarebbe arrivato molto vicino, quindi la prestazione di Michael è assolutamente consola, spero di essere stato il piano partita che si è sviluppato nel corso dell'anno. Sontravoci. E abbiamo visto un po' una piatta di mezzo quando c'è stato il 2-12 per voi, poi c'è stato il break di 15-2 per l'orolino. No, ma ragazzi non è che non si deve mai andare a più, le partite hanno, c'è le partite di pallacanestro, hanno break, punto break, poi indipendentemente da come è finita la partita, non ci dimentichiamo che è vero di una squadra giovanissima che deve fare della gioventù, dell'energia e dell'entusiasmo il suo cavallo di battaglia. Trovati alla prima di campionato, in casa, è normale che dopo le sono di sotto 12-2 volessero replicare con entusiasmo, energia e gioventù, quindi quello è quello che è successo. No, insomma, è normale che in una partita ci siano dei momenti in cui fai dei break e dei momenti in cui subisci, ma non è neanche che ci sono stati dei cali di tensione, anzi, forse il calo di tensione c'è stato all'inizio del terzo quarto, quando abbiamo, secondo me, proprio giocato un po' soffici e lì non abbiamo immediatamente azzallato la partita per come avremmo dovuto, però, ripeto, la partita è perfetta, la 10-40, ma non si mette per nessuno della terza. Signor Goccia, vorremmo dire che forse la difficoltà maggiore di questa partita, nella sua preparazione, è stata quella di trovare riferimenti agli scout dei giocatori che andavano ad affrontare questa domenica in settimana. Questo per dirvi che è talmente giovane inedita questo Veroli che troverà difficoltà. Su questo, diciamo, non sono d'accordo con un motivo che, vabbè, tre giocatori, tre giocatori sono tre giocatori infatti finiti. Il quarto è andato via all'inizio della settimana, quindi, sto parlando di Mike Lardi, Alessandro Grande è stato forno a un anno, quindi non c'è stato bisogno di andare a cercare scout particolari. Nella forno è un giocatore che, tra palacanestro, non conosce in realtà qualche anno, quindi non conoscevo, sarebbe per il campo of time. E' chiaro che c'era qualche ragazzo giovane, però anche qui si parli di giocatori che hanno fatto i mondiali del 2017, l'Europa del 2018, l'Europa del 2016, quindi, i Cacace, i Bucanelli sono giocatori che un allenatore deve conoscere. Un po' conoscere come conosci, che ne so, Great Dinner, perché Great Dinner è bisogno giocare cinquanta volte, però il normale è che questo è un dettivo livello, di dare spazio minuti e responsabilità a un gruppo di ragazzi molto giovani, che però sono belle speranze, hanno voglia di sbatterse, hanno voglia di giocare e credo che, al di là di tutto, il progetto tecnico sia un progetto tecnico interessante e un GPR. Poi, sappiamo che i campionati senior adesso sono molto pragmatici, e i campionati senior adesso deve risalvare la pelle, e quindi, starà a loro combattere fino all'ultimo finuto, dovuto a partita, ma dopo aver rivisti, direi che hanno tutti i pregi e tutti i difetti delle squadre giovani. Quindi, momenti di grande entusiasmo e di grande trasporto emotivo, e poi, quando le cose si complicano, magari i momenti di grande difficoltà. Starà poi, alla squadra in sé, a capire che in quei momenti dovrebbero avere una stabilità, per evitare magari di prendere un break, sono i difetti delle squadre giovani, iniziate voi ad insegnare, ad insegnare un progetto di io, ad insegnare un progetto di voi. Ma un progetto di questo genere, che difficoltà possono trovare, di raggiungere una semplice salvezza, in un campionato come questo? A secondo me, le difficoltà che si aspettano di dover trovare. Cioè, non credo che nessuno abbia iniziato questo progetto, immaginato che sarebbe stata una passeggiata di salute, ma abbia iniziato questo progetto, coraggioso così via, ho detto, sapendo che sarebbe stata molto dura. Sarà molto dura, ma mi sembra che le facce e le professionalità che sono all'interno di questo gruppo, e non perché è la più importante, tra l'ora della tua porta, siano di assoluto livello. Quindi, sono sicuro che se questi ragazzi, da qui al 30 d'aprile, 27 d'aprile, non so, quando abbiamo la mia partita, devono crescere tre, con questo staff, con questo equilibrio, con la capacità di queste persone, cresceranno cinque. E quindi, questo lo posso sottoscrivere oggi, che hai una cinque di ottobre. Ecco, Gocci. Il profilo dei tuoi è un... veramente, vorrei continuare la cosa, vedete un miglioramento, fosse un pelino di continuità. Non mi ha disegnato la continuità. Sei soddisfatto per lo personale? No, 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 sono soddisfatto. Prendo atto di quello che è successo. La continuità difensiva, secondo me c'è stata, la continuità offensiva, no, però è stata molto fida il fatto che all'inizio abbiamo fatto canestro, 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 e lì pensi di essere Batman e invece può raccogli essere nostro solo. E quindi è normale che poi devi trovare altri canali. Credo che dobbiamo, secondo me, migliorare nella presenza sotto il poterone dei nostri avversari. Abbiamo bisogno di essere in grado di procurarci maggiori opportunità a rivelazione. Ci siamo. Grazie. Grazie a tutti.